che cos'è il limone in costiera martitana oggi il limone è un salvavita ma non tanto per la vitamina o per la vita salutare ma proprio per la salute di questi borghi e di questi centri in cucina si usa il limone dappertutto queste piccole realtà territoriali che hanno un grande cuore una grande identità e hanno tanto da mostrare e Antonio Amato in questo momento ci sta raccontando